salve pomeriggio in accademia pomeriggio non troppo caldo perché fortunatamente un po di pioggia ci ha sollevati io sono ritornata dalla maremma a per fare cosa come vedete alle spalle per preparare la prossima lezione la prossima lezione che si terrà il 20 agosto è dedicata a una grande artista lisbeth werger austriaca acquerellista sarà molto importante per me raccontarvi questa storia perché anche qui purtroppo dobbiamo ritornare all'autobiografico allora la prima immagine che possiamo vedere insieme è una una fotografia che io ho scattato stamattina in accademia molti di voi anche se non hanno mai visitato l'accademia sono credo oramai avvezzi a riconoscere attraverso le foto che noi postiamo e questo è un disegno originale di lisbeth che noi abbiamo incorniciato e stamattina attraverso una fotografia degli specchi mi è uscita questa cosa che mi ha fatto come pensare che veramente lisbeth alleggia e come è già parte del nostro non dico arredamento ma proprio del nostro essere lo è in un'altra sua originale che vedete e allora ho pensato che questi disegni originali che ci accompagnano da molto tempo esattamente dal 1990 dall'anno in cui noi prepariamo la grande mostra dedicata a lisbeth al museo civico archeologico di bologna e che le cose abbiano un tempo una durata e che oggi tutti insieme possiamo rivisitare il lavoro di questa grande artista riconosciuta nel mondo mi riempie di soddisfazione e mi dà anche il senso di avere lavorato con una direzione cioè non per lo spreco o per l'effimero o per la moda ma per una cosa che secondo me dura nel tempo diventa in un certo senso classico cioè diventa un valore riconosciuto un valore apprezzato da molti in molti paesi quindi non è solo un punto di vista personale un gusto personale ma è un gusto personale che si incontra e si incrocia con altri gusti è molto divertente per me ritornare un pochino indietro nella memoria ma quando organizziamo questa mostra perché era appunto il 1990 e questi come se vedete fra i libri ce n'è uno di copertina azzurrina chiara e quello era il lussurioso come dissero gli inglesi catalogo che noi le preparammo è un catalogo di cui abbiamo ancora delle copie e contiene la un saggio stupendo secondo me sussurri equerellati da cui abbiamo copiato il titolo per questa lezione dal professor antonio faeti ed è bilingue in italiano in inglese perché potesse lisbeth che austriaca leggerselo e perché potesse avere forse prima ancora di ricevere il premio hans christian anderson che ricevette nello stesso anno ma due mesi dopo perché noi la mostra l'organizziamo a gennaio ecco questo è questo che vedete il catalogo che noi chiamiamo che chiamiamo c'era una volta il l'ete un fa once upon a time e svare einmal per onorare anche la sua lingua perché lei ovviamente parla parla tedesco ecco stare insieme tutti questi libri ed avendone in questi giorni completato la bibliografia quindi acquistando quelli che in italia ancora non ci sono per poter preparare la lezione è per me un grandissimo piacere è un piacere che mi riporta indietro nel tempo come vedete nella prossima ecco qui lisbeth è al centro io sono quella che le tiene la mano a fianco c'è un'altra grande illustratrice inglese katrin brighton di cui un giorno forse vi parleremo e questi sono molti anni fa non è il 1990 bensì il 93 l'anno in cui facciamo una mostra dedicata agli inglesi e durante la fiera ovviamente lisbeth lo sapeva quindi venne a salutarci ecco è molto interessante molto importante a dire come anche i rapporti durano nel tempo l'ultima volta che ho visto lisbeth era a shanghai novembre scorso abbiamo cenato insieme una serata divertendoci moltissimo perché è una donna ricchissima di esperienze sia culturali che umane e soprattutto una donna ironica quindi spero di poter condividere con voi il 20 di agosto il lavoro di questa straordinaria singolare voce che quando nel 1990 noi la incontrammo e decidiamo di fare una mostra su di lei ed eravamo veramente orientati su tutto altro stile ma non era la moda che cercavamo ci piaceva lo stile avanguardistico o avanguardista dei valvolini motor comics ma sapevamo assolutamente apprezzare il rinnovamento attraverso il medium dell'acquerello perché lei si muove da scusate si muove si lavora con l'acquerello dopo molti indugi perché lo scopriremo a lezione lei proprio non trovava la sua voce perché perché a quel tempo le dicevano che era antiquata e fu grazie ad una storia d'amore il suo fidanzamento con un pittore oggi anche illustratore che pubblica john rowe inglese che attraverso lui scoprì racam e tutta la tradizione du lac tutta la tradizione classica dell'illustrazione inglese e li prese coraggio aiutata da lui che le soggeri di cominciare da due colori abbandonò la china con la quale sempre lavorava per passare all'acquerello e devo dire che dopo tante perplessità ha raggiunto proprio attraverso il medium dell'acquerello livelli insuperati quindi ci risentiamo il 20 agosto vi auguro un felice feragosto e un arrivederci a presto grazie a tutti